Ciao ragazzi, sono Andrea, siamo qui per Blowbook, alla libreria Lovat di Padova, siamo qui per una presentazione. Pinocchio, cuore di legno, uscito questo settembre per Fernandelli. Inizierei proprio da te Pietro, con una domanda molto semplice, ovvero facci una panoramica generale di che cos'è, di cosa parla questo Pinocchio, cuore di legno. Dunque è un graphic novel, un fumetto, che riprende in qualche maniera la storia di Pinocchio e la legge in un modo, diciamo così, un po' speculare. È la storia di un, quello che noi chiamiamo il narratore, un personaggio che va in seduta psicoanalitica perché ha un piccolo problema. Il suo problema, che si trascina da molti anni, è che un giorno, quando era piccolo, nella soffitta di suo zio, aveva trovato un Pinocchio di legno, un burattino, una marionetta, anzi, a grandezza naturale, e questo Pinocchio a un certo punto gli aveva parlato, si era animato e gli aveva parlato. E gli aveva raccontato una storia, la sua storia, che non era esattamente la storia che lui aveva sentito quando era piccolo e quando magari la sua mamma gliela leggeva per farlo addormentare. E quindi il racconto, questo romanzo grafico, questo romanzo fumetti, racconta questa storia parallela di Pinocchio di che cosa gli succede quando diventa adulto, che cosa succede dopo, perché la favola di Pinocchio si ferma nel momento in cui lui diventa bambino, ma non sappiamo che cosa è accaduto dopo. Cosa succede quando lui cresce, diventa un uomo, si deve assumere delle responsabilità, entra nella vita di tutti i giorni? Perfetto, e quello che succede è vedere Pinocchio, lungi dall'happy ending che tutti conosciamo, ritrovarsi in un mondo che è strettamente nella nostra contemporaneità. Noi ritroviamo tutte le figure allegoriche che Collodi ci aveva operato nell'Ottocento, che però adesso sono potentemente traslate. Mangiafuoco è un ricco industriale, il gatto e la volpe sono degli operatori finanziari, e non diciamo cos'è la fata madrina. E quello che volevo appunto chiederti era, è questo il paese dei Balocchi del 2011? Sì, esattamente questo. Soprattutto Pinocchio ritrova il paese dei Balocchi quando rincontra Lucignolo, il suo vecchio amico di un tempo. Lucignolo che adesso è diventato un personaggio importante, un personaggio potente, un personaggio nella politica, ma non solo nella politica. E Lucignolo dice, guarda come ti sei ridotto a voler essere una persona per bene, a voler essere un uomo come tanti altri. Vieni con me, ti porto io nel paese dei Balocchi. E comincia così per Pinocchio una caduta che, non so se si può svelare il finale, insomma, non lo diciamo, ma lo porterà in un vortice dal quale non riuscirà più a uscire. Perfetto, adesso parliamo appunto con te Nadia. Volevamo sapere la genesi di questo fumetto, nel senso, come vi siete regolati proprio nella creazione? Qual è stato il rapporto tra i testi e i disegni? Sì, allora, tecnicamente noi lavoravamo in questo modo, diciamo, noi viviamo anche in due città diverse, quindi ogni mezzo era lecito, insomma. Noi ci siamo incontrati per fare naturalmente lo storyboard di tutto il libro in cui si inserivano naturalmente pagina per pagina delle bozzetti, delle idee del soggetto che Pietro aveva già scritto perché questa storia nasce da un racconto che poi lui ha tramutato in una sceneggiatura. Nessuno dei due aveva mai fatto un lavoro del genere, quindi è stata un'esperienza incredibile per tutti e due. Abbiamo, quindi, su questo storyboard, poi ognuno a casa lavorava un po' per conto suo. Lui mi mandava i testi, la sceneggiatura in cui venivano impostate naturalmente delle indicazioni di immagini e poi io lavorava a casa. Quindi, diciamo, il lavoro da un punto di vista tecnico è andato avanti così per tutto il periodo della lavorazione. Poi noi ci siamo incontrati, la nostra collaborazione è nata, diciamo, è nata con questo libro, ma ci eravamo incontrati molto tempo prima, sempre quella promessa che prima o poi avremmo fatto qualche cosa insieme, insomma. E quindi, insomma, è stata una bellissima esperienza. Benissimo. Adesso arriviamo a parlare appunto del tuo stile grafico che tu in interviste precedenti definisci tratto continuo. Spiegaci un attimo che cos'è e come si è sposato con questo fumetto. Allora, diciamo, nel mio lavoro precedente io ho fatto già un altro libro che era un diario di maternità e seguiva questa tecnica, la linea continua, che tutti ricorderanno la linea della lavazza, della pubblicità. Diciamo che è sempre stata per me una necessità non estetica ma proprio funzionale alla creatività perché il fatto di usare, creare un'immagine, una narrazione a linea continua ti permette di riassumere tutto quello che vuoi dire in... devi riassumere tutto in un'unica immagine e deve essere il più semplificata possibile quindi devi riuscire a depurarla di qualsiasi elemento superficiale. quindi l'idea iniziale che era stata, diciamo, riportata su un blog che si chiamava proprio solo in linea era questa. Poi, naturalmente, quando abbiamo deciso di fare questa graphic novel è stato... ho dovuto rielaborarla perché a quel punto la narrazione implica anche la complessità del particolare, del soggetto che in una narrazione così lunga deve essere presente. Questo è anche un noir quindi anche il singolo elemento poi è importante. Quindi ho dovuto rimodificare un po' naturalmente la complessità dell'immagine ma l'esigenza della linea continua è rimasta insomma anche se naturalmente è stata modificata è stata resa più complessa però tutto parte da questo da questo desiderio di arrivare al sunto delle cose insomma. Perfetto adesso spostiamoci appunto dal sunto delle cose a quello che è uno dei messaggi del libro vediamo proprio al cuore in questo caso di legno una delle tante sfumature che possiamo cogliere leggendo questo fumetto è un discorso che potremmo riallacciare alla mobilità sociale ad oggi in Italia ovvero chi nasce burattino alla fine burattino rimane magari anche nel profondo di sé è così? Nel senso c'è una possibilità di riscatto sia per Pinocchio che per noi? la possibilità di riscatto naturalmente c'è sempre perché voglio dire noi diamo una lettura speculare ma non è che neghiamo diciamo quello che poteva essere il messaggio originario la metafora originaria di Pinocchio Pinocchio è un come dire un'opera è un'opera aperta che offre nella sua semplicità un'infinità di possibili letture di possibili messaggi io personalmente sono cresciuto sentendo nelle orecchie il burattino senza fili di Bennato per cui voglio dire quindi i messaggi sono tantissimi una delle letture senz'altro è questa mettiamola così se il paese dei balocchi è il paese del bunga bunga è il paese dei soldi facili è il paese delle furberie eccetera eccetera finché quello sarà il valore di riferimento allora senz'altro il burattino senza fili continuerà a essere un burattino senza fili eh già allora finiamo con una domanda che poniamo a tutti e due ovvero abbiamo un testo che ha le sue radici in un libro in un libro di collodi però voi non avete voluto scrivere un libro anche perché ci sei di mezzo tu che disegni e quindi è stato reso con le immagini è stato creato un fumetto come mai questa questa scelta perché rendono per immagini e non limitarsi alla pura scrittura comunque la storia di collodi è sempre vissuta in parallelo anche con un immaginario un immaginario di disegno quindi ogni 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 disegnatore si è cimentata anche un po' con Pinocchio noi abbiamo voluto calarlo un po' più nella contemporaneità e quindi anche questo mezzo della graphic novel credo che si presti molto di più perché riesce a rafforzare il testo sono due linguaggi che insieme non sono ridondanti ma rafforzano un messaggio quindi entrambe crediamo molto in questo modo di comunicare quindi è stato come per tanti altri disegnatori scrittori il cimentarsi con Pinocchio è stata è una un po' una prova insomma come hanno fatto molti altri ma per me io sono essenzialmente un romanziero un autore di romanzi di racconti però ho sempre letto molto Fumetto ho sempre seguito molto il Fumetto e lo trovo una forma narrativa piena di potenzialità soprattutto adesso il cosiddetto romanzo Fumetti che è un po' diverso dal fumetto seriale ci sarebbero delle distinzioni da fare sarebbe un discorso un po' lungo quindi parliamo del romanzo Fumetti quindi parliamo di una narrazione che cerca di trovare un particolare equilibrio tra il testo e l'immagine ha delle grandissime potenzialità e personalmente volevo provare e esplorare queste potenzialità è capitato Pinocchio perché come diceva Nadia si presta molto è un racconto illustrato nasce come racconto illustrato lo vediamo ce lo ricordiamo anche nei cartoni animati nei fumetti insomma è un racconto che porta con sé proprio l'illustrazione quindi era perfetto diciamo così una rivisitazione di questa favola ci sembrava forse la forma più forse anche più facile da un certo punto di vista per chi come noi per la prima volta si cimentava con il romanzo grafico ciao Grazie a tutti.